buongiorno dolcezze, finalmente ci rivediamo perché l'azienda BB craft mi ha contattato per darmi un codice sconto personalizzato per tutti voi che mi seguite qua sul canale io sono troppo felice perché è la prima volta che ho un codice sconto chiamiamolo personalizzato ed è il codice arianna 5 che vi darà 5 dollari di sconto su una spesa di 40 quindi dovete inserire appunto quando fate il check out questo codice che è arianna 5 ovviamente io vi scrivo tutto qua sotto nel info box così ve lo potete ricordare credo sia uno sconto abbastanza buono anche perché le spese di spedizione su questo sito non sono proprio superifere economiche e quindi avere 5 dollari di sconto comunque fa piacere ovviamente sarà tutto convertito nella valuta con cui voi comprerete presumo acquisterete in euro quindi non so quanti euro saranno però insomma più o meno e niente spero di avervi fatto una cosa gradita che vi faccia piacere e adesso vi lascio al videino che avevo già registrato vi mando un bacione e visto che c'è l'alberello approfitto visto che siamo a dicembre ad augurarvi buone feste buon natale e un bacione a tutti ciao buongiorno dolcezze allora siccome volevo farvi vedere all'opera le nuove pinze di bibicraft e proprio una settimana dieci giorni fa mi è arrivato un commento di una ragazza su un video molto vecchio in cui mi diceva sposta la telecamera che non si vede niente poi ho guardato un commento sotto di un'altra ragazza che mi diceva bene se si vedesse qualcosa questo perché? perché era un video del 2012 dove vi registrai una specie di tutorial su come creare i chiodini era un video osceno, lo ammetto e me li merito questi commenti perché veramente non si vedeva niente registravo con mezzi di fortuna, non avevo un cavalletto, non c'era questo visuale avevo un cellulare dell'epoca che era abbastanza scrauso quindi veramente era un video brutto ma brutto ma brutto quindi ho deciso di cogliere due piccioni con una fava e di farvi vedere all'opera le pinze appunto diciamo facendo un remake di quel video del 2012 dei miei esordi quasi su youtube che era veramente osceno in una versione appunto fatta bene, una versione 2018 2.0 diciamo quindi quello che adesso vi voglio far vedere è come si creano delle asoline per i chiodini che siamo abituati insomma a comprare sui vari siti però che possiamo facilmente crearci anche da soli soprattutto per chi lavora con l'assemblaggio che consuma una quantità industriale di chiodini a t e chiodini con l'asula asula? perché dico asula? asula e che quindi sicuramente è molto più comodo farseli da soli anche perché è velocissimo l'unica cosa che ci serve appunto sono questi tre tipi di pinze la tronchesina la pinza a punte coniche e questa pinza che io uso di solito solitamente per stringere gli anellini o per aiutarmi a tener fermo le cose allora però il soggetto principale è il filo che io acquisto in bobine o meglio acquistavo tanto tempo fa quando facevo il fimo e quindi avevo necessità di crearmi tutti i chiodini e le asoline per i miei ciondolini in fimo e quindi cercavo queste bobine nei negozi di decoupage ma credo si trovino anche su internet questo è color bronzo ma ci sono anche color argento color oro e la cosa che dovete fare innanzitutto è scegliere lo spessore del vostro filo questo è abbastanza spesso credo sia uno 08 o 06 ma più 08 perché è molto spesso e rigido e questo va assolutamente a gusto vostro se vi piace un filo più rigido o un filo molto più morbido e malleabile io preferisco un filo un po' più rigido però come vi ho detto dei gusti bus insomma dipende da quello che preferite voi adesso andiamo a vedere appunto come si crea un'asolina prendo le mie tronchesine e mi taglio il mio pezzettino di filo queste devo dire che tagliano veramente benissimo perché non serve neanche che faccia troppa pressione e già mi hanno tagliato il filo adesso cerco di raddrizzarmelo un pochino e adesso vi faccio vedere come creare semplicemente un'asolina di questo tipo bella precisina perché ho visto asoline in giro che lasciavano un po' a desiderare allora ci sono due metodi in realtà più o meno è il solito metodo allora primo metodo con la fine del filo mi posiziono nella pinza scelgo dove posizionarmi in base alla grandezza che voglio della mia asolina perché più sarò all'inizio delle punte più sarà piccola e più sarò in fondo più verrà grande io scelgo questo una via di mezzo insomma e cosa faccio? tengo stretto il filo e giro la pinza e vedete che mi si è creata la mia asolina però non va lasciata così perché cosa che vedo fare spesso e volentieri perché non è diciamo la forma giusta anche se la chiudete per bene ora io vabbè l'avevo lasciata un pochino aperta vedete che non è uguale all'originale e quindi cosa devo fare? sempre con la pinza dentro all'asolina piego il filo in modo che mi venga il mio cerchietto ben preciso prendo le altre pinze e mi chiudo bene l'asolina in modo che sia appunto ben stretta ok, altro metodo praticamente è quasi uguale ma parto allora scelgo la lunghezza del filo che voglio lasciare e in base a questa lunghezza si rispecchierà sulla grandezza della mia asola asola allora giro il filo in questo modo poi posiziono di nuovo il filo tra le pinze e faccio la stessa cosa di prima cioè mi vado a girare la mia asolina e voilà mi sono creata di nuovo il mio cerchietto perfetto ok, questa è proprio la base delle asoline adesso voglio farvi vedere come creare anche un'asolina chiusa perché spesso quando si fanno questo è un po' piccolino quando si fanno magari le collane tipo rosario si fermano appunto i cristallini con le asoline da entrambe le parti del filo e sarebbe cosa buona e giusta fare le asoline chiuse in modo che poi non si rimangano appunto unite le varie catenelle del rosario io come faccio a creare la mia asolina chiusa? allora devo avanzare un po' più filo rispetto alla grandezza dell'asola quindi se l'asola la voglio fare di questa lunghezza devo avanzare almeno la solita lunghezza di filo se non di più quindi io cosa faccio? piego il filo e mi vado girando a creare la mia asolina ok? in questo modo adesso sempre sempre con il mio anellino ben stretto tra le pinze prendo il filo e lo giro attorno al filo sotto questa cosa potete farla anche aiutandovi con delle pinze se avete il filo troppo duro e vedete che praticamente sto chiudendo il filo in questo modo io di solito faccio al massimo due giri quindi rifaccio ancora un giro ok vedete e adesso taglio l'eccesso con le tronchesine e vado a sistemare l'avanzo con le altre pinze perché giustamente non possiamo lasciare questa cosa qua all'insù così e la vado bene a stringere in questo modo ho creato la mia asolina chiusa e posso andare ad attaccare appunto le altre catenelle mi basterà insomma ricreare un'altra asolina passarla dentro a questa e richiuderla al solito modo e così creo le mie catenelle adesso ho preso un chiodino con la pallina che già avevo io che avevo comprato e voglio farvi vedere insomma anche la differenza di spessore del filo in questo caso è molto evidente e guardate questo filo quanto è malleabile infatti a me non piacciono i chiodini così morbidi però insomma sono comunque utilizzabili e voglio farvi vedere appunto come creare un'asolina chiusa una volta che avete messo la la vostra perla in un chiodino allora semplicemente giriamo il filo in questo modo a seconda della lunghezza che lasciamo sarà insomma la grandezza della nostra asola giriamo vedete che mi si è creata ok a questo punto però cosa faccio piego il filo e cerco di passare proprio raso raso alla mia perla quindi tenendo il tutto bloccato con la pinza a punte tonde prendo il mio filo e giro attorno alla perla posso fare quanti giri voglio vedete che in questo caso essendo molto morbido possiamo anche diciamo creare una decorazione attorno alla perla con il filo quindi giro e continuo a girare il filo finché non termina e mi sono creata questa specie di coppetta che ovviamente adesso devo andare a sistemare tagliando l'eccesso in questo modo ok e avrò la mia perlina anche un po diciamo decorata e sarà un po più carina appesa al nostro braccialettino ovviamente questo tipo di decorazione si riesce a realizzare con un filo molto molto morbido e molto sottile anche se comunque guardate qua come rimane poi morbida l'asulina e sono i pro e i contro del filo morbido con un filo più duro sicuramente creare la decorazione è più difficile però insomma dipende dalle vostre esigenze e da quello che preferite poi avere come risultato finale ok io penso di avervi fatto vedere tutto queste sono le varie varianti spero di esservi stata un minimo utile so di non aver scoperto l'acqua calda che sicuramente lo fate anche voi da milioni di anni però insomma visto che mi è ricapitato tra le mani quell'altro video disastroso avevo piacere insomma a rifarvelo a rifarvelo vedere cioè a rifarvelo a rifarvelo sistemato e decente niente detto questo vi saluto vi mando un bacione e alla prossima ciao